Taranto, Paolo VI, via 25 Aprile, siamo nella cosiddetta zona delle case bianche. Siamo stati sollecitati ad intervenire con la nostra troupe per una situazione di degrado davvero vergognosa che si protrae da anni e da anni. Abbiamo infatti uno scantinato, una cantinola completamente immersa e sommersa da acqua piovana, da acqua di fogna, da liquami. I cittadini, diciamocelo senza sé e senza ma, non sono bestie e meritano una vita, una esistenza dignitosa. Dottor Giuseppe Pino Lessa, chiamato così conosciuto in città e con gli amici, un grido di dolore che non ha avuto finora risposta. Sì, certo, gli amici mi hanno chiamato, sapendo che mi sto accadendo allo scanno di sindaco di questa città, mi hanno chiamato per cercare aiuto a risolvere una questione che, come avete visto, come avete già filmato e registrato, è veramente pietosa e per non dire altre parole. Sono anni che questa gente vive in queste condizioni, nessuno mai è intervenuto, come se questi non fossero cittadini di Taranto. Allora io dico, invece di arrabbiarsi a chi deve fare il sindaco nel PD, tra gli assessori, è bene che si muovessero e venisse a risolvere questi problemi, perché qua ci sono bambini, donne, che possono chiaramente essere influenzate negativamente da questa situazione. C'è certamente la responsabilità dell'OIACP, ma parimenti la responsabilità dell'amministrazione comunale che, ripeto, il sindaco è sovraordinato rispetto alle problematiche di carattere sanitario e qui ci sono problematiche enormi di carattere sanitario, di igiene pubblica, pensate ai rischi che corrono i bambini, ma dico i bambini per dire. Assolutamente sì, io invece di pensare ad altre zone della città, un pochettino pensassero anche a questa zona, un pochettino abbandonata da tutti quanti. Gli assessori competenti, dovevano gentili da tempo, ma a quello che vi dicono gli amici nessuno mai si è fisso da questa parte. Oggi abbiamo fatto fare una colletta ai cittadini per cercare di ripulire la zona, nel nostro piccolo stiamo cercando di fare il possibile. L'invito è al sindaco che si interessasse anche di questa zona perché è degradata completamente.